La gara con il Nardò è la gara più importante del campionato per il Brindisi, chiamato a tornare alla vittoria nello scontro diretto per la salvezza. I Neretini seguono gli Adriatici, staccati di tre lunghezze e anche per loro i tre punti sarebbero importantissimi, sempre in chiave permanenza. Archiviata dunque la sconfitta di Foggia, che ha lasciato un po' di amaro in bocca per il modo in cui è maturata, Capitano Marino e compagni si sono ormai tuffati, anima e corpo, nella preparazione del match con gli uomini di Foglia Manzillo. Il Tecni Quadriatico dovrebbe recuperare tutti gli acciaccati, vedi Zappacosta e Ancora. Rientra anche Sassà da Ancora dopo aver scontato il turno di squalifica. Ed intanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ok da parte della Commissione Pubblici Spettacoli sull'agibilità in tutti i settori del Fanuzzi. È previsto infatti per venerdì mattina il sopralluogo e se tutto dovesse andare per il verso giusto, la trasferta per i tifosi Neretini sarà aperta con una disponibilità di un massimo di 200 tagliandi. Brindisi Nardò sarà posticipata di mezz'ora. Il fischio d'inizio è previsto dunque per le ore 15.